Mi trovo nel Comune di Perito in contrata a Iscabate in occasione del Consiglio Comunale che si tiene in seduta straordinaria presso il Centro Polifunzionale Comunale. Noi con grandissimi sforzi siamo qui per celebrare il Consiglio Comunale che è la massima espressione della democrazia sul territorio per inaugurare quello che per noi sarà il Centro Polifunzionale. In realtà al momento sarà un ambulatorio medico poi si andranno a sviluppare altri progetti per farlo diventare appunto polifunzionale. Però quella che è la storia che si sta scrivendo perché dopo decenni solo di promesse, solo di chiacchiere noi abbiamo fatto i fatti. Con i fatti abbiamo realizzato l'acquisto di un opificio che era in disuso questo opificio verrà ad essere realizzato come centro polifunzionale per la collettività contrata a Iscabate. Questo per noi è di fondamentale importanza in quanto finalmente i concittadini della contrata saranno parte integrante della collettività. Parte integrante sul serio però non solo a chiacchiere perché finora così come la storia purtroppo ci ha insegnato erano un po' un territorio dimenticato. Con questo Consiglio Comunale di fondamentale importanza abbiamo chiesto e ottenuto dal Consiglio l'autorizzazione per poter andare a chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo per poter realizzare un impianto di pubblica illuminazione che oggi è molto importante in una qualunque collettività. Ad oggi la contrata ne è sprovvista a breve ne sono certo riusciremo a realizzarla e finalmente sarà la luce anche qua.